E' diventato un caso politico, a San Roani visita Roma, la città eterna, per la prima volta da quando è diventato il presidente dell'Iran. Incontro il premio italiano Matteo Renzi addirittura si intrattene con il Papa, ma sembra non possa sopportare le nudità delle Venere Capitoline, che dal 1816, anno in cui si sono insediati nei musei capitolini, rappresentano una delle opere più interessanti e ben conservate dal Museo. Ebbene sì, visto il rigido codice e morale del paese di provenienza delle illustre ospite, il responsabile capo del cerimoniale, Ilva Sapora, sembra aver deciso all'ultimo minuto di inserire statue del IV secolo a.C. in box bianchi, trasformando i musei capitolini in un museo di opera astratta. Il New York Times ha commentato la decisione del governo italiano come ridicola e che l'accaduto apre un lungo dibattito sull'identità nazionale. Sempre dalle righe del New York Times si riprendono le parole di Massimo Gramellini, della stampa, nel quale scrive che le statue della nostra tradizione millenaria sono state coperte nel timore che, vedendole, il presidente iraniano Rouhani avesse uno sgomento ormonale e stracciasse i contratti con le nostre aziende. Decisione degne di un certo modo di essere italiani, senza dignità. Il pudico Rouhani, 67 anni, proviene da una famiglia molto religiosa, ma ha un dottorato in legge conseguito in Scozia e non è conosciuto come un leader dal pugno duro, anzi, gode di una nome riformista e moderata. Nonostante questo, sembra che siano stati proprio due dei suoi uomini a chiedere di scatolare le venere capitoline e altre statue del periodo greco e romano, per non mettere il supremo leader in imbarazzo, visti anche le imminenti elezioni del prossimo 26 febbraio, dove molti leader moderati sono già stati squalificati a favore dei più conservatori. Insomma, una foto compromettente con udità femminili di alcuni secoli fa avrebbe messo in una posizione scomoda il mulla moderato. Nonostante il clamore mediatico, la questione sembra aver lasciato indifferente il diretto interessato che in conferenza stampa si è focalizzato sui veri temi della visita in Italia. L'incontro a Roma, tra Ruani e Renzi, è stato infatti molto importante per la conclusione di alcuni accordi economici, di nuovi possibili in seguito alla firma del trattato sul nucleare con gli Stati Uniti. Italia e Iran hanno firmato 13 memorandum per un valore di contratti pari a circa 17 miliardi di euro. L'Italia, anche prima della rimozione delle sanzioni, era uno dei paesi europei più coinvolti nell'economia iraniana. Abbiamo lasciato inverno dai nostri rapporti, sembra che andiamo verso la primavera, ha detto il Presidente iraniano, ospitando investimenti non solo commerciali ma anche tecnologici e citando l'ospitalità che gli italiani ci hanno riservato e l'affinità che abbiamo trovato sulle grandi questioni regionali e internazionali. Vedo un futuro chiaro, migliore, per i rapporti tra i nostri paesi. L'Italia è stato infatti il primo paese europeo a riprendere i contatti economici con l'Iran nel 1998 e questo la rende un partner economico affidabile, importando dall'Iran soprattutto petrolio ed esportando maggiormente macchinari. Ma dopo questa visita sicuramente i rapporti commerciali si svilupperanno anche in altri ambiti. Le possibilità di crescita in Iran sembrano molto alte, soprattutto perché tra i 78 milioni di abitanti i due terzi hanno meno di 35 anni e un livello medio di istruzione alto. Il paese che si affaccia sul Golfo Persico ha una grande volontà di ristabilire rapporti commerciali e internazionali, dall'acquisto di 160 aeree di Airbus fino al contratto di 300 milioni di euro con la Peugeot Citroën, ma non sembra ancora pronto ad affrontare la vista dei simboli milenari della cultura occidentale. Rispondendo infatti a una precisa domanda dei giornalisti in conferenza stampa a Roma, il presidente iraniano ha precisato che la vicenda delle venere scatolate è una questione giornalistica e non ci sono stati contatti a questo proposito. Posso solo dire che gli italiani sono molto ospitali, cercano di fare di tutto per mettere a proprio agio gli ospiti e li ringrazio per questo. Quindi Rouhani se ne lava le mani, la sovraintendenza dei musei capitolini anche, dato che ha dichiarato sulla vicenda dovete chiedere a Palazzo Chigi la misura non è stata decisa da noi, è stata un'organizzazione di Palazzo Chigi, non nostra. Palazzo Chigi per ora non commenta, ma pare che Renzi non abbia apprezzato la premura avuta dal cerimoniale dei musei capitolini nei confronti del leader iraniano e la considera un eccesso di zelo, soprattutto perché i temi della visita erano ben altri. La questione delle statue sembra essere quindi diventato un affare globale, oltre che uno dei principali temi di sfottio nei social network. Si spera solo che il buon Rouhani, vista la sua permanenza a Parigi, non voglia andare a visitare la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Sarebbe forse troppo dura affrontare la vista della scollatura della famosa signora del 1500. Egliona Cela per Pall'Europa, New York.